Il progetto di legge del Stato Popolare è un valore per tutto il territorio nazionale. In base alla classificazione del rischio ambientale, sismico e idrogeologico fornita dalla Protezione Civile Nazionale e per evitare di perdersi in situazioni di totale preparazione della cittadinanza e degli amministratori di fronte a manifestazioni di fenomeni risottosi, di lievi o gravi proporzioni e al fine di educarli le popolazioni e gli amministratori al rispetto delle norme di edilizia sismica e di tutela ambientale ed idrogeologica del territorio, sono disposti piani di investimento finalizzati alla prevenzione e all'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio sismico. Questo è l'articolo che comprende tutto il territorio nazionale che oggi può essere utilizzato per l'Avola e domani, speriamo che non succeda, ma può essere utilizzato per tutte le calamità che dovessero colpire il territorio nazionale. Questo è quello che è uno degli articoli della Valenza, la legge del territorio nazionale e noi ci siamo andati tutti da tutti i pubblici per far sostenere da tutti gli italiani questa iniziativa di legge culturale che lo sia importante a tutti. Grazie.